ragazzi buongiorno e benvenuti in questo nuovo video riscaldamento fatto pronto per la discesa oggi sono alla chiesetta alla maddalena e partiamo proprio dalla chiesetta che c'è qua alle mie spalle vedete lì in quella direzione un pochino più in basso c'è la chiesetta 1 e qua interessante perché inizia iniziano diverse tracce quella che prenderemo oggi di là invece c'è il dark side of the hill e la sassaia del 5 e oggi proprio partiamo da questo sentiero alle mie spalle l'XC paradise dovrebbe essere ed è interessante venire alla chiesetta perché da qua si possono fare delle belle combo di sentieri infatti oggi proviamo l'XC paradise che dovrebbe portare giù a strada revigliasco da lì dovremmo ricongiungerci velocemente facendo un tratto in salita se non sbaglio e trovarci alla chiesetta 2 chiesetta 2 andiamo al cretaceo che è un sentiero che non avevo mai fatto sono venuto qualche giorno fa a provarlo per vedere appunto tutte le combo che si potevano fare da queste parti e poi si vedrà da farsi probabilmente risalgo perché ho lasciato la macchina qui sul piazzale però da queste parti è davvero interessante perché si possono fare più combo quindi si può andare di là al dark side la sassaia del 5 dei bei sentieri da discesa e da lì poi ci troviamo praticamente vicino strada ronda paletto ronda paletto e da lì poi si può andare a prendere direttamente il cretaceo insomma oppure risalire andare a fare la chiesetta 2 però ci sono veramente diverse possibilità diverse combinazioni che si possono fare partiamo adesso andiamo l'XC paradise che è questo quale a mie spalle che non ho mai fatto dovrebbe essere semplice poi chiesetta 2 e cretaceo allora partiamo l'XC paradise dovrebbe non l'ho mai fatto ma dovrebbe essere abbastanza dico abbastanza tranquillo a parte che qua inizia già con un saltino ma ma è interessante anche qua ma qua c'è un po di passaggini oddio mica tanto guarda che bei passaggi molto secco ma guarda che bella storia ragazzi è secchissimo la bici va via come niente allora qua vedo un po di tracce boh sarà questo qua blu ho vedo delle fettuccine ma mi sa che ci ricongiungiamo con del dei pezzi della chiesetta 1 comunque avete visto là in alto eh sì qua siamo in chiesetta 1 già chiesetta 1 ok niente mi sa che la variante in alto era da ciao praticamente là in alto c'erano due varianti io sono boh non so andando a quella destra praticamente avrei sarei andato subito di nuovo a ricongiungermi con la chiesetta 1 comunque chiesetta 2 molto secco ci lamentiamo spesso che è fangoso adesso invece il contrario ecco qua che abbiamo pizzicato fanculo ok ripartiamo dopo pit stop foratura 20 minuti buoni abbondanti cazzo era entrato un chiodo praticamente una culeo a che vale adesso ce la rischiamo un po perché ho finito ecco la rischiamo un po' ok andiamo di qua che dobbiamo connetterci più velocemente al passaggio eh sì e da qua siamo già in direzione cretaceo ok qua siamo all'ingresso del cretaceo inconfondibile ok andiamo primo trappino fatto un po bello qua sono venuto per la prima volta un paio di giorni fa occhio qua anche qua guarda che per i passaggi fotrealistici mi piace ok qua arriva la zona dirt io ovviamente passo di qua non sai mai cosa c'è dopo sti panettoni bello però ciao scusa no 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 attenzione ai passanti ok qua ci siamo ricongiunti col chiesetta 3 quindi l'uno sentiero 1 qua mi sa che siamo proprio al fondo proprio qua salto della pozzangra un po ciccato e qua siamo praticamente al fondo del cretaceo barra sentiero che barra chiesetta 3 da qua come avete visto si può decidere magari di risalire un attimo e rifare il cretaceo acqua c'era oppure magari risalire in chiesetta 2 o addirittura in chiesetta 1 ma diventa lunga ok l'ideale secondo me è lasciare chi viene su con la macchina lasciare la macchina all'inizio della chiesetta 2 in quello in quello slargo lì così uno poi magari risale un attimo in chiesetta 1 arriva giù si fa qualche combo magari un paio di volte ma la valle penso che si apre verso chieri sono un po fuori zona rispetto al fondo di questa salitina qua si prende questo trail in salita che dovrebbe essere il rocciamelone se non sbaglio si va in salita qua da qua si risale abbastanza velocemente per poi fare eventualmente ritrovarsi di nuovo al cretaceo e quindi farlo più volte in circuito e questa dovrebbe essere la cappella rocciamelone secondo me quello è revigliasco e da qua si risale ecco da qua si rientra sul sentiero ronda paletto tempo zero siamo di nuovo all'imbocco del cretaceo ci qua e siamo di nuovo al cretaceo tempistica 15 minuti spaccati allora oggi non ho tempo ho perso tempo anche con la foratura ho cannato le misure all'isci xc paradise quindi risalgo che ho lasciato la macchina all'eremo bene ragazzi siamo arrivati siamo tornati in cima certo un po dura iniziare con la discesa e farsi tutta la risalita dal fondo del cretaceo quindi anche al fondo della chiesetta 3 a risalire circa 45 minuti ho fatto anche un po tardi ho avuto l'incon l'inconveniente della foratura però come vi dicevo qua veramente si presta davvero bene a delle combo interessanti prossima volta lascio la macchina giù all'inizio della chiesetta 2 risalgo vengo a farmi magari il dark side o la sassaio del 5 poi magari mi butto il cretaceo e lo faccio in circuito oppure risalgo la chiesetta 2 insomma qua veramente si presta davvero bene a diverse combinazioni senza dover passare per forza sempre comunque dalla dalla chiesetta 1 quindi dalla chiesetta 1 quindi ogni tanto andando anche un pochino più tranquillo ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale aiutatemi a farlo crescere e noi ci vediamo alla prossima avventura nei sentieri ciao 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 ciao